Ciao, sono Valentina Comelli, cantante, cantautrice e insegnante di canto moderno presso la Scuola di Musica del Garda di Desenzano del Garda. Per il percorso biennale Music Academy per la musica moderna mi occupo dei corsi di backing vocals, inglese per musicisti e songwriting. Approfondiremo il ruolo delle armonie vocali e la loro costruzione analizzando la loro funzione nell'arrangiamento di un brano e provando naturalmente anche a mettere in pratica quanto avremmo imparato. And then we're gonna study English for musicians per saper parlare di musica, per poter studiare la musica sui testi che magari non sono stati tradotti nella nostra lingua o, perché no, frequentare una masterclass in lingua inglese senza sentirci completamente spaesati. Nel corso di songwriting lavoreremo sulla stesura del testo di una canzone, sulle sue caratteristiche tecniche, sul processo con cui possiamo trovare il modo migliore per esprimere un concetto o un'emozione attraverso le parole e la melodia che stiamo creando. I corsi avranno inizio a settembre 2021. Potete chiedere informazioni alla Scuola di Musica del Gard attraverso il sito internet o attraverso le pagine social che trovate in descrizione a questo video. Che altro dire? Noi vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!